Questa è la seconda volta che registro lo stesso video perché è successo un casino, quindi devo registrare questo video sulla mia mondo con le mod, quindi niente. Allora, aspettiamo che carica il mondo e poi entriamo dentro il mondo per giocare. Allora, ora non so quale video si è cancellato, se è il primo video o il secondo, quindi se questo sarebbe il secondo noi dobbiamo andare in miniera e io ci sono già in miniera. Allora, nel video che avevo registrato, che poi si è dovuto cancellare, avevo trovato Aerobrine, cioè mi è uscito tipo giocatore Aerobrine o qualcosa del genere, non lo so. Non me ne frega niente, vediamo se c'è qualcuno. Ok, per ora non è ancora entrato l'ilio, prima era entrato l'ilio, quindi possiamo scendere in pace. Ma perché il creatore di Minecraft doveva inventare la gravel? Non potevano inventarla e stavano tutti in pace con noi stessi. Invece di supportarci la... Ancora! Perciò sopportare la gravel. C'è un matrimonio! Porta cavolo di gravel sta qui! Ma basta! Ah, pietra. Dobbiamo scendere giù in miniera perché praticamente... Ci serve da trovare una cosa. Allora, magari avevo una crafting... Mi sono scocciato, ecco. Se no, se continuiamo così ci perdiamo 30 anni. S. Allora... Ok... Ok... Sì, ok. Eccola qui. La mettiamo qui e ci facciamo una palla in ferro. Che se andiamo avanti così... Mincavola. Abbiamo tutta questa gravel del tavolo. Guarda che quanta! È possibile che devo subirmi io le pene dell'inferno? Eh? Ok, dei rumori sembra che siamo molto vicini. A una caverna, quindi... Ok, quindi... Dobbiamo essere molto vicini a una caverna. Poi, scrivetemi nei commenti che mod volete, se volete che la metto... Ehm... Scrivetemi con i commenti un po' che mod volete vedere nella mia serie. Perché comunque... Se è questo qui... Cioè, questo qui dovrebbe essere... Secondo episodio, ecco che faccio. Se volete... Cioè, io ho aggiunto il mostro dell'1.17. Pensavo che si doveva trovare... Ehm... Uh, c'è la redstone, ok. Pensavo che si dovesse trovare lì... Sotto nelle caverne. Però, invece, l'abbiamo trovato subito, subito. Quindi, niente. Allora. Scaviamo e scendiamo. Questo è comunque per dirvi e lanciare quale mod è. Allora. E siamo in un altro mondo, comunque. Perché ho voluto cambiare il mondo. Perché quindi si stava corrompendo. Ho cominciato prima di registrare. Perché io prima di registrare mi faccio un po' il giro di tutto il mondo. Per vedere se c'è qualcosa di nuovo. Qualche costruzione nuova di una nuova mod. E ho trovato che si stava spaccando a poco a poco il mondo. Quindi ho creato questo nuovo. Non solo come quelle che abbiamo trovato... Ci sono quelle lì e poi ci sono altre che sono molto diverse. Mi sembra che c'è quella del cibo. Che dovrebbe essere un'altra ancora, diversa. Quella della moda del cibo. Che è più fortuna di modi. Un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di cose. Allora. Andiamo di qua. E continuiamo a salire. Allora. Prima ero uscito. Ero in po' il giro. Ora c'è stato un problema di traccio. Quindi è dovuto uscire. Potrei fare una cosa? E mamma mia. Zombie Alex, ragazzi. Zombie Alex. Ma sta? Sono spazzata. Mettiamo giorno. Così. Alba. Ok, raga. Allora. Se sentite della musica mia sorella di là. No. Come? No, raga, 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 raga. Siamo fritti. Siamo fritti. Siamo delle frittelle. Siamo delle frittelle. Siamo delle frittelle. Siamo fritti. Siamo fritti. Ok. 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 Non va niente ok. Va sto male. Va sto male. Va sto male. Mi sono un sacco di mod. Ma tipo tante. Una dietro l'altra. Una sparata. Siamo fritti. Una dietro l'altra. Ok. Allora. Lui non ci dà niente di interessante. Nello scorso video abbiamo posato... Cos'era? Se erano... Vim... Era un tipo... Quelle cose. Quelle cose. Ecco. Ok. Allora. Andiamo così. Loro ci dovrebbero dare qualcosa. Sì, la TNT. Loro ci dovrebbero dare tante delle uova. Lui ci dà la cosa. Che dovrebbero essere? Oh, l'uovo di ragno. Mi dà questo coso della Ford. Ok. Non voglio fare pubblicità alla Ford. Quindi... Niente. Due file di cuori. Ok. Possiamo farcela. Allora. Ovviamente c'è sempre la qualità moda di dinosauri. Quella non può montare mai. E' una delle tante che porta avanti il nostro meraviglioso mondo. La nostra meravigliosa vita con le mozze. Allora. E' stata un po' sempre. Ok. Allora. Ci devo stare senza mostri. E ora che mi trovo con i mostri. E' stata un po' di lui. Lui dov'è? Ok. L'ha portato. Da. Allora. Comunque. Allora. Ora. Giochiamo un pochettino. Qua c'è un altro zombie così. Ok. Allora. Dov'è lui? Che fine ha fatto lui? Allora. Bella. Se vedete che gioco con i mostri in vanilla. Perché praticamente. Ho paura che i creeper mi possano distruggere tutto quanto. Perché sapete che io ci metto un sacco di tempo. Per costruire tutto. Per fare tutto quanto. Mi sto meravigliando di non trovare la... Quello. Eh? Cos'è che ha detto? Hai dei ferri indietro? Ah! Vabbè. Fa niente. Mica lo possiamo prendere tutto il ferro. Ehm. Vabbè. Allora. Io sono qui perché mi devo prendere... Ehm. Nuovi materiali. Delle nuove mod. Che si dovrebbero trovare qui da qualche parte. Qui intorno si dovrebbero trovare. Allora. Qui ho... Tipo in questo mondo ci sono più di... Miliardi e miliardi di mod. Erano 32 mod. Tra cui zombie. Creeper. Cioè di tutto. Cioè di tutto. Mi meraviglio di non aver ancora trovato un creeper in questo mondo. Con tutti i mostri che... Abbiamo conosciuto. Ehm. Va. Vabbè. Ehm. Ok. Allora. Continuiamo così. Uh. Ok. Ora non so. A che altezza si dovrebbero trovare i nuovi materiali. Se vuoi nuovi materiali. I materiali... Mi sto un po' spaventando di... Di non riuscire a trovarli. Perché... Non so nemmeno a cosa servirebbero. Cioè io... Il rubino l'ho trovato subito subito. Per chi stava nel primo episodio. Cioè di questa nuova serie. E chi c'era nel nuovo episodio. Di questo nuovo mondo. Non chiamiamolo... Nel... Nel... L'episodio che c'è stato prima. Ecco. Perché... No. Perché comunque siamo nella stessa... Non nello stesso mondo. Ma è una cosa diversa. Allora. Grazie. Grazie. TNT. Ok. Poi. Non mi chiedete che sono quei mostri. Che ti danno la TNT. Perché ne manco io lo so. In certi mod me li ha passati il mio amico. Quello lì. Ok. Continuiamo. Allora. Tutto al buio questa volta. Spendiamo un po'. E... Zombie. Niente di niente sto trovando. Qualcuno mi ha messo in pacifica. Non vorrei che mi hanno messo in pacifica. Non voglio... Essere in pacifica. Questo qui è un mondo adatto ad essere... Così. Controlliamo. Impostazioni. Perché non mi sta succedendo niente? Vabbè. Oltre alla... No. Normale. Vabbè. C'è stato un... Ok. Ok. Allora. Cosa? Va bene. Allora. Loro non lo dovrei prendere. Perché è veramente inutile. Loro. Quindi lasciamolo. È inutile. Allora. Allora. Ci sta per finire il coso. Quindi ora ci dovremmo fermare. E... Quindi. Niente. Vabbè. Ci fermiamo. Un attimo. Io mi fermo. Così almeno creo una... Una... Cosa lì. Arrimo. Prendo. Sì. Yes. 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 Andiamo di yes. Ok. Ehm... Quella pecora si chiamava iscriviti. Ragazzi. Iscrivetevi al canale. All'aggiungimento di... Quanti iscritti possiamo fare? Trenta? Sì. Eh sì. Avevamo deciso da 30 iscritti. Il mio amico. All'aggiungimento di 30 iscritti. Io giocherò un gioco scelto da voi. Quindi raga. Non manca. Allora. Ehm... Vi faccio sciogliere il terzo. E nel frattempo. Io direi. Sì. Sì. Quindi fare. Gattetta. Quindi mi faccio una piccola. E mi faccio volto. Ok raga. Allora. Ehm... Mentre... Stavo facendo... L'uranio. Non so che cos'è. Cioè. Sembra un ragno. Nella descrizione c'è l'ha scritto ragno. Mi ha dato dei diamanti. Ok. Ok. Va bene. Va bene. Dammi i diamanti. Dammi i diamanti. Ti voglio bene. Allora. Dobbiamo buttare qualcosa di qua. Quindi questo. Questo. Tutte cose inutili. Cose inutili. Cose inutili. Così inutili. Così inutili. Continua a prendere questo. E faccio un bel piccone che non abbiamo legna. E adesso? E tu chi sei? E' a questi? Li sta mettendo l'io. Parla. Tenga. Cosa? Non mi inga niente. Eh. E' questo? Ma basta. Ma non si può lo zanno. Come si crafta lo zanno? Così? Così? No. Così? Così? No. No. Non so. Ha un ciclo zaino. Wow. Grazie per mandarmi i messaggi, eh. Abbiamo un ciclo zaino. Ehm. Queste? Ah. Si. Qua. come si scrive stick ma guarda quanti stick stitch ci vediamo 4 così possiamo fare così così ok allora mi sono fatto un nuovo picco ma ma i love you love you ok ora mi sono veramente ma veramente un'altra cosa che mi deve fare è lo sbatto fuori ora mi sono letteralmente stancato mettiamoci in creative ci teletrasportiamo da lui ci ripegliamo tutte le nostre cose e andiamo a fare andiamo a fare e andiamo a fare